Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio canale. Questa settimana ho pensato di proporvi la seconda idea per San Valentino. Stavolta non ci sarà solo un'idea di nail art, ma vi mostrerò anche come confezionare una cover in silicone molto semplice e veloce da realizzare. Nel mio caso la cover è di un iPhone 6 Plus, che è il mio modello attuale di telefono. Comunque, bando alle ciance, questa è la mia nail art. La nail art in questione ha un effetto molto particolare, soprattutto un effetto molto romantico, ma anche molto strong allo stesso tempo. Quindi, se vi piace l'idea, seguite il tutorial. Partiamo subito a realizzare una base nera, semi-trasparente, diluendo di molto i colori acrilici. E una volta lasciato asciugare il tutto, realizzo un contorno con un pennellino nero, sempre usando i colori acrilici. E una volta terminato in tutto, abbellisco con dei puntini neri. Ora è il momento di realizzare le roselline stilizzate in stile vintage. Prima di tutto, creo una base con rosa molto pastello. Man mano aggiungo delle macchioline scure, partendo dal rosa un po' più acceso, fino ai colori un po' più scuri, ad esempio come un bordeaux o un rosso, come preferite voi. Una volta lasciato asciugare il tutto, realizzo da subito le foglioline. Una volta che la nail art è completamente asciutta, applico il sigillante e catalizzo in lampada per 120 secondi, e se necessario per 240 secondi. Ed ora passiamo subito a personalizzare la nostra cover. Prima di tutto, dipingo tutta la parte esterna con un rosa pastello, e realizzo la mia bozza, in questo caso la turripelle. Poi aggiungo le roselline, sempre allo stesso modo di come le ho realizzate durante il tutorial, e in più aggiungo dei bellissimi dettagli, come le scritte, e qualche nuvolina in più. Una volta che ho completato il mio disegno, ridefinisco lo sfondo con un colore acrilico bianco ad effetto spugnato. A questo punto lascio asciugare per un'intera notte, e sigillo il tutto, sempre con le stesse modalità della nail art, ovvero 240 secondi se utilizzate una buona lampada UV e un buon sigillante senza dispersione. Comunque ragazze, io spero che queste idee vi siano piaciute, e ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao ragazze! Iscriviti al canale per non perdere tutti i nuovi video che verranno.